Tre furti subiti nel giro di qualche settimana. Domenico Pagliari, imprenditore balneare di Pescara, è esasperato e si è detto pronto a farsi giustizia da solo. La scorsa notte, infatti, ha subito il furto del suo scooter sul lungomare sud di Pescara davanti al suo stabilimento balneare. Io spero, spero, non tanto per il costo, perché tu hai detto che è una moto vecchia e anche che dispiace, spero non che lo ritrovo io, spero che lo ritrovo qualcun altro, perché ve lo prometto, se lo ritrovo io sicuramente gli faccio qualcosa di brutto. Poi subirò le conseguenze, perché quando uno sbaglia è giusto che subisce le conseguenze, però adesso voglio farmi giustizia da solo. Dalle immagini delle telecamere di sicurezza del locale si vede un giovane con il capo coperto da un cappuccio avvicinarsi al mezzo parcheggiato privo di catena e blocco sterzo. Dopo averlo rimosso dal cavalletto si è allontanato a piedi spingendolo. Pagliari ha espresso tutta la sua amarezza, si è detto stanco, visto che circa tre settimane fa ha subito un altro furto nel suo stabilimento. I ladri, dopo essere entrati da una finestra del ristorante, hanno rubato due televisori al plasma ed alcune bottiglie di vino. E prima ancora hanno rubato nell'abitazione di sua madre, portando via alcuni oggetti che appartenevano al padre e quindi di grande valore affettivo. E proprio il TG8 Pagliari aveva lanciato un appello per rientrare in possesso almeno dei ricordi di famiglia. Stamani, domenico, sfiduciato e sconfortato, si è detto pronto a farsi giustizia da solo. Però, dopo un paio di ore, la notizia positiva, il suo scooter è stato ritrovato abbandonato in un parcheggio nel centro di Pescara. Antonio Di Maio, la guardia giurata della Sicurcop, che ha intercettato il ROM che aveva rubato nel corso della notte scorsa lo scooter di Pagliari. Allora, che cosa è successo in particolare? Niente, stavo uscendo dall'Eurospin della Nazionale, in pratica con la colta dell'occhio ho intravisto che lui passava con lo scooter giallo e subito sono andato a vedere la targa, era lui. Quindi l'ho iniziato a seguire e siccome c'era traffico, l'ho seguito da lontano e ho subito chiamato il 113, che tramite loro, la pattuglia e io, in pratica abbiamo intercettato all'altezza del Todis di Viale Bovio. Alla vista della volante, il giovane Roma ha abbandonato il mezzo nel parcheggio di via Botticelli e subito dopo si è allontanato a piedi, ignaro di essere stato individuato. Una volta raggiunto, è stato fermato dagli agenti di polizia e condotto in questura. La moto invece è stata restituita al legittimo proprietario. Hai una diversa considerazione dell'istituzione delle forze di polizia, alla luce di quanto è avvenuto? Guarda, adesso sicuramente hanno acquisito molti punti perché hanno fatto effettivamente una bella operazione, sono veramente contento. Ricordiamo che tu eri pronto anche a farti giustizia da solo. Guarda, ero pronto a farmi giustizia, ma la prima cosa, come sono arrivato agli organi della polizia, ho detto per favore, vorrei solamente dargli una saraca, ma non ci sono riuscito.